Aspettavamo soltanto, per parlare, il grido di indignazione che risuona ad ogni parte. I nostri occhi erano aperti, vedevamo il nemico prepararsi e levarsi, ma non abbiamo dato l'allarme. Abbiamo lasciato che il popolo vegliasse da sé alla propria difesa. Esso non ha dormito, esso ha brandito le armi. Abbiamo lasciato che il nemico uscisse dal suo rifugio, abbiamo lasciato che si avvicinasse. Adesso è scoperto e smascherato, alla luce del giorno. Ogni colpo giungerà a segno, basterà guardarlo perché sia morto. Ve l'ho già detto una volta, in due gruppi, si potrebbe dire in due eserciti, si sono divisi i nemici della Repubblica. Sotto bandiere di colore diverso e per le vie più diverse, essi tendono tutti al medesimo scopo. Una di queste fazioni ormai non è più. Nella sua follia artificiosa cercava di eliminare i patrioti più sicuri, come uomini deboli e logorati, al fine di depredare la Repubblica delle loro braccia potenti. Dichiarò guerra alla divinità e alla proprietà per fare una diversione a favore dei re. Ha parodiato il sublime dramma della rivoluzione per comprometterla con eccessi calcolati. Il trionfo di Hebert avrebbe trasformato la Repubblica in un caos e il dispotismo sarebbe stato soddisfatto. La spada della legge ha colpito il traditore. Ma cosa importa agli stranieri se per raggiungere il medesimo scopo rimangono loro delinquenti di altro genere? Non abbiamo fatto nulla se ancora ci resta da allientare un'altra fazione. Essa è l'opposto della precedente. Essa ci spinge alla debolezza. Il suo grido di battaglia è clemenza. Essa vuole sottrarre al popolo le sue armi e la forza che quelle armi guida per affidarlo nudo e snervato nelle mani dei re. L'arma della Repubblica è il terrore. La forza della Repubblica è la virtù. La virtù perché senza di essa il terrore è nefasto. Il terrore perché senza di esso la virtù è impotente. Il terrore è un'emanazione della virtù. Non è che la giustizia è rapida, severa, inflessibile. Dicono che il terrore sia l'arma di un governo dispotico e che il nostro governo somiglierebbe quindi al dispotismo naturale. Ma così come la spada nelle mani di un eroe per la libertà somiglia alla sciabola di cui è armato il satellite del tiranno. Governi il despota per mezzo del terrore e i suoi sudditi simili a grezze. Come despota ha ragione. Per mezzo del terrore sgominate i nemici della libertà e non avrete minore ragione come fondatori della Repubblica. Il governo rivoluzionario è il dispotismo della libertà contro la tirannia. Clemenza per i realisti! Grida certa gente. Clemenza per i malvagi? No! Clemenza per l'innocenza! Clemenza per la debolezza! Clemenza per gli infelici! Clemenza per l'umanità! Solo il pacifico cittadino ha diritto alla protezione da parte della società. In una Repubblica solo i repubblicani sono cittadini. Realisti e stranieri sono nemici. Punire gli oppressori dell'umanità. Questa è clemenza. Perdonare loro è barbarie. Tutte le manifestazioni di una falsa sensibilità mi sembrano sospiri che si involano verso l'Austria o l'Inghilterra. Ma non soddisfatti di disarmare il braccio del popolo si cerca di avvelenare con il vizio persino le fonti più sacre della sua forza. Questo è l'attacco più sottile, più pericoloso e più abominevole alla libertà. Il vizio è il segno di Caino dell'aristocratismo. In una Repubblica esso non è soltanto un crimine morale, bensì anche politico. L'uomo vizioso è il nemico politico della libertà ed è tanto più pericoloso quanto più grandi sono stati i servici che gli apparentemente le ha reso. Il cittadino più pericoloso è quello che consuma più facilmente una dozzina di berretti rossi piuttosto che compiere una buona azione. Mi capirete facilmente se pensate a una gente che una volta viveva in un abbaino e adesso viaggia in carrozza e combina porcherie con un'ex marchese e baronesse. Quando vediamo i legislatori del popolo fare gran pompa di tutti i vizi e del lusso dei cortigiani di una volta. Quando vediamo questi marchesi e conti della rivoluzione sposare donne ricche, dare sontuoci banchetti, giocare, tenere servitù e portare vesti costose non è forse lecito chiedersi è il popolo ad essere stato spogliato oppure è stata stretta la mano prodiga dei re. Abbiamo pure diritto di meravigliarci se li sentiamo fare gli spiritosi avere delle trovate ed ereditare altri simili atteggiamenti del bon ton. Recentemente è stato parodiato tacito in modo indecente. Potrei rispondere con sallustio e svelare un qualche catilina tuttavia non credo che mi sia necessaria nessuna pennellata. I ritratti sono completi. Nessun patto, nessuna tregua con gli uomini che ebbero a unico scopo la spogliazione del popolo che speravano di compiere impuniti questa rapina per i quali la Repubblica fu una speculazione e la rivoluzione un mestiere. Terrorizzati dal fiume impetuoso degli eserciti cercano sotto sotto di moderare la giustizia. C'è da credere che ognuno dica a se stesso non abbiamo abbastanza virtuosi per essere tanto terribili. O filosofici legislatori abbiate pietà della nostra debolezza. Non oso dirvi che sono vizioso e perciò preferisco dirvi non siate crudeli. Rassicurati popolo vittorioso tranquillizzatevi patrioti. Dite ai vostri fratelli di Lione La spada della legge non arrugginisce nelle mani di coloro ai quali l'avete affidata. Daremo alla Repubblica un grande esempio.